Si è tenuta ieri l'udienza per i miasmi provocati dal TMB e dall'impianto di compostaggio di eboli. La giudice Valentina Chiosi ha garantito che nei prossimi giorni nominerà il consulente tecnico che dovrà verificare le condizioni dei due impianti e si visì annesso di causalità fra la gestione di questi ultimi e gli odori che appestano Battipaglia. Presenti all'udienza i membri di Lega Ambiente Battipaglia. Ringraziamo, affermano, gli avvocati Italo Carbone e Antonietta di Genova perché grazie al loro lavoro per la prima volta un consulente tecnico terzo potrà verificare le condizioni del TMB di Battipaglia e dell'impianto di compostaggio di eboli. Brilla per l'assenza il comune di Battipaglia che ancora una volta ha perso l'occasione di stare accanto ai propri cittadini.